Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 15 dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Si consiglia inoltre prudenza a causa del maltempo che sta interessando gran parte della regione, in particolare sulle tratte appenniniche dove sono previste nevicate. Sulla 1 panoramica inoltre si ricorda che a causa di lavori fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sul raccordo Sena-Firenze invece si segnala la presenza di restringimenti di carreggiata sempre a causa di lavori tra San Casciano e Pruneta Greve e Inchianti in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio!